Lisabetta da Messina. Allora, Lisabetta da Messina è la quinta novella della quarta giornata del Decameron e la narratrice è Filomena. Come in tutti i testi di questa sezione dell'opera, la trama è quella di un amore infelice che si conclude in modo drammatico. Lisabetta è una giovane ragazza messinese, orfana di padre e vive insieme ai suoi tre fratelli che sono originari di San Gimignano e sono diventati ricchi conducendo affari e commerci particolarmente le dei tizi. E Lisabetta, che è appunto una ragazza, non è ancora maritata, si innamora di Lorenzo, che era un modesto ragazzo di Pisa che aiutava i fratelli nel loro lavoro. Questo giovane, Lorenzo, appartiene a un ceto inferiore rispetto a quello di Lisabetta e quindi il loro amore assume immediatamente implicazioni sociali assai complicate per l'epoca. E vediamo che questi tre fratelli infatti hanno una mentalità particolarmente ristretta rispetto alla quale invece la passione tra Lisabetta e Lorenzo si afferma come qualcosa di assolutamente spontaneo e naturale. Se la situazione che nasce fra questi due ragazzi sembra promettere un esito felice della vicenda, come nelle novelle della quinta giornata, lo sviluppo successivo invece sarà uno sviluppo tragico. I tre fratelli infatti scoprono che la sorella si reca a nottetempo dal suo amante e decidono di contrastare con ogni mezzo questa loro unione. Perché nella loro ottica affaristica, consideriamo che Lisabetta è ancora nubile, questa relazione diciamo mette a rischio il decoro e il buon nome della famiglia. E così i tre fratelli di Lisabetta inducono Lorenzo a seguirli fuori città attraverso una scusa e una volta usciti da Messina lo uccidono e nascondono il suo corpo. Poi i tre fratelli tornano a casa e giustificano l'assenza di questo ragazzo che li aiutava dicendo a tutti che si trovava altrove per motivi d'affari. E di questo riescono a convincere anche la povera Lisabetta. L'assenza di Lorenzo però a un certo punto diventa sospetta perché si protrae per un tempo troppo lungo e quindi questa giovane donna innamorata incomincia a disperarsi. Una notte il defunto ragazzo compare ad animare i sogni di Lisabetta e le rivela di essere stato ucciso dai fratelli e arriva al punto anche di mostrarle il luogo in cui è stato sepolto da questi. La ragazza viene presa da sconforto, da disperazione e poi escogita un piano per recuperare il corpo di Lorenzo. Infatti riesce a ottenere dai fratelli il permesso di fare una gita in campagna con una fidata donna di servizio. Lisabetta quindi si recca sul luogo indicato l'insonio dall'amato e qui una volta arrivata ne disseppellisce il cadavere. Non potendogli dare una sepoltura più degna, Lisabetta taglia la testa al cadavere per poter conservare vicino a sé almeno un ricordo del suo innamorato. Tornata a casa, Lisabetta nasconde la testa di Lorenzo in un vaso e la copre con una profumatissima pianta di basilico. Questa pianta di basilico poi cresce in modo particolarmente rigoglioso. Ogni giorno Lisabetta piange, si dispera su questo vaso di basilico e trasferisce su questo l'amore e la passione insopprimibili per l'amato Lorenzo. Il comportamento di Lisabetta però insospettisce i vicini e questi vicini segnalano insomma questo comportamento anomano della ragazza ai fratelli. I fratelli quindi decidono di requisire la pianta e dopo averci trovato all'interno la testa di Lorenzo fanno sparire tutto quanto. Timorosi che la vicenda e il delitto da loro compiuto diventino di dominio pubblico, abbandonano Messina e si trasferiscono a Napoli portando con loro anche Lisabetta. La ragazza però che già si era ammalata dopo la sottrazione della pianta, di lì a poco muore di dolore. Il suo amore disperato, ci dice Filomena che appunto è narratrice degli eventi, viene ancora oggi ricordato in una struggente canzone che ricorda il furto della pianta. Il suo amore disperato, ci dice Filomena che appunto è la pianta.